Audi aggiorna il suo crossover compatto A3 Allstreet che ora sfoggia un look sportivo come non mai e un anima high tech. L'app store integrato in vettura e la possibilità di optare per diverse firme luminose garantiscono un elevato livello di personalizzazione. La compatta dei quattro anelli può contare su un design ancora più muscolare. Il single frame esagonale privo di cornice è più ampio rispetto al precedente modello, una caratteristica che abbinata alle generose prese d'aria e all'incisivo paraurti enfatizza ulteriormente il carattere dinamico della vettura. Lo spoiler anteriore sottolinea l'impronta a terra dell'auto, un effetto cui concorrono nella zona posteriore i gruppi ottici privi di sbalzi, il nuovo paraurti e l'estrattore ridisegnato. L'assetto di Audi A3 Allstreet è rialzato di 30 mm, favorisce l'accessibilità e porta in dote una posizione di guida dominante nonché una taratura specifica di molle e ammortizzatori. Nuova Audi A3 Allstreet adotta di serie cerchi in lega da 17 pollici sin dal primo livello di allestimento. A richiesta sono proposti cerchi da 18 e 19 pollici. Il crossover compatto di Audi può contare di una capacità di carico di 380.200 litri. In abitacolo spiccano il nuovo selettore del cambio, simile esteticamente a quanto in dotazione al SUV full electric Audi Q4 e Tron, le bocchette di ventilazione ridisegnate e corredate di un inedito motivo a forma di freccia, gli inserti decorativi in tessuto e l'illuminazione interna rivista rispetto al passato. La nuova gamma Audi A3 mutua dai modelli Audi di classe superiore le tecnologie di assistenza, in primis l'airbag anteriore centrale derivato dall'ammiraglia Audi A8. Una dotazione inclusa sin dal primo livello di allestimento e che mira a riempire lo spazio tra i sedili così da scongiurare, in caso d'urto laterale o ribaltamento, l'impatto tra guidatore e passeggero. Oltre all'airbag anteriore centrale, la dotazione di serie include l'assistenza al mantenimento della corsia e la frenata automatica d'emergenza basata sull'interazione tra radar e telecamere, così da prevenire gli impatti con gli altri veicoli, i pedoni e i ciclisti. Al lancio, la nuova gamma Audi A3 prodotta presso lo stabilimento Audi di Ingolstadt sarà proposta con due motorizzazioni a 4 cilindri sovralimentate mediante turbo compressore e abbinate alla trasmissione automatica a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti. I motori sono il 2.0 TDI da 150 CV e 360 Nm di coppia e 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm, quest'ultimo con tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Audi A3 Allstreet è proposta in configurazioni Business, Business Advanced e Identity Contrast, con prezzi a partire da 39.500 Euro.